Andrea Smuller e Veronica Peparini. Le mie condizioni in gravidanza dopo la scoperta del problema sono. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like, e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Nella recente apparizione a Verissimo, Veronica Peparini e Andrea Smuller, la celebre coppia, hanno condiviso aggiornamenti sulla gravidanza gemellare e affrontato le sfide che stanno vivendo. Annunciando le gemelline a Verissimo, la coppia ha svelato dettagli sulla gravidanza monocoriale biamniotica, condividendo una placenta ma con sacche distinte. Veronica ha rivelato di aver scoperto la situazione per caso durante la gravidanza, ma grazie a controlli regolari, la condizione delle gemelline sta migliorando. Nonostante i rischi, Veronica ha affermato. Sono stata baciata dalla fortuna e dunque è giusto rispettare. Frequenti controlli settimanali monitorano la situazione. E sebbene certi rischi non siano esclusi, la coppia è positiva. Veronica ha sottolineato la sua preparazione mentale fin dall'inizio, aggiungendo. Anche i miei figli ora sono più tranquilli. Andreas ha evidenziato l'importanza del riposo per Veronica, mentre entrambi hanno ammesso di non essere ancora fuori pericolo. La coppia condivide un'atmosfera armoniosa e unione in casa, con i figli di Veronica, Daniele e Olivia, entusiasti della nuova arrivata. La gravidanza, non priva di sfide, è affrontata con determinazione e ottimismo dalla coppia. Lascia un commento alla fine del video, e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.